Sì, le energie alternative sono molto importanti, la provincia di Perugno ci sta lavorando molto, però dobbiamo anche tutelare i beni culturali, artistici, turistici del nostro territorio, è un territorio molto ricco di questi siti, direi anche per fortuna, pertanto la conferenza dei servizi farà degli approfondimenti, delle valutazioni magari più specifiche sul tema in questione, sapendo che la provincia è quella di tutelare un patrimonio che dobbiamo assolutamente far sì che venga non solo tutelato ma anche proiettato turisticamente in tutto il mondo.